senta gentilmente può accendere l'aria condizionata assolutamente sì certo certo e senta sia gentile può abbassare l'aria condizionata perché è caldo freddo assolutamente sì senta se la può abbassare un altro po gentilmente l'aria condizionata assolutamente sì grazie senta una cosa ma lei come fare tutta questa pazienza ma non ci abbiamo manco l'aria condizionata fidati